Chi è che ha partito, porcadio? Esatto Ci sono due addini nati Quirz Quirz ce l'ha Ora, una cosa... Ok L'off tank avrebbe dovuto poi prendere gli addini e portarli sopra quelle merdine di fuoco Perchè gli addini sarebbero morti Gli add bisogna portarli sulla lava Questa è abbastanza semplice per i tempi, adesso la AUKOS ce l'ha Ok, attenzione, attenzione Fuoco Pure tu ce l'hai No, no, io ce l'ho cambiato sopra Ok, vieni la roba, io sarò Ok Gli add sono allo sbando eh No, ce l'ho io qua C'è uno che mi ha levato mezza vita Ce l'avrete anche però Adesso ce l'ha addri quella lava Quella lava Quale lava? Devi camminare, non devi stare fermo Portate, portate il lab sopra Ok E li dovrebbe fare uno dell'off tank, se l'ha discorso Non so come farlo sono nati l'abbini buonasera scusate cominciare perché vedo che la parolona si comunque abbiamo promosso quindi metto le italy infatti sto pensando anch'io a l'healer perché dps ormai in ranger ce l'abbiamo e lì la che ci manca cazzo wiz è morto come cazzo è morto non sono ricattito a me no si sono tardi braccio Eeeh Non ha finito il casco E ora lui ha rotto la calamita E mo' Cazzo Che falle Nooo Perchè sarà tutti vivi No ma non poteva servire il tank Il tank si spera che non muoia Soprattutto non ci serviva lui Come siete messi? Oh merda Stiamo facendo Dreadfortress Per farlo vedere anche Hrel E Adriano E Tommy vabbè l'ha già fatto una volta Però questo no Questo non l'ho fatto insomma L'ho fatto e questo no Perchè non ci si faceva passare Questo non l'aveva fatto L'ho fatto con la Repubblica Veste però insomma Vabbè Vabbè Allora Vabbè Allora Un po' sei morto Addini addini non è finito Ma te l'ha servito il grip lì oppure no? A chi? Per avvicinarti alla calamita Allora Sì ma Perché in quel momento avevo talmente tanto agro che non Non era più Cioè non era più un peccato Ma ricordati che il grip Togli agro a chi grip Per cui se togli agro al tank Di solito non è una gran cosa Ok Però In quel caso In quel caso lì sì Io comunque ci sarei arrivato Mezzo secondo dopo Perchè il boss era dietro di me Ah la cintura Tommy Era per Cioè fosse continuato che il boss aveva più vita Era stato utile Perchè sennò ci arrivai troppo tardi E quindi il team pigliava miliardi di danni Oppure Non serviva un cazzo Io voglio capir quello capito Un attimo l'orecchino non serviva nessuno Però non è una cattiva idea Dove si